Mi riconosci? Sei mamma? È il mio ex marito, a causa tua! È il mio ex fratello a causa tua! Non ricorda nulla! Nulla, nulla! Lui è come se fosse adesso un bambino di quattro anni. Secondo me dovrebbe tenerlo la moglie, no? In questo caso... Il fratello. Col cazzo! Aiuto, mi vuole rapire, aiuto! Scetto, ma cosa vuoi? Mio fratello. Che vuol dire questo? Un modo per salutarsi vuol dire buongiorno. Ah! Scusi! Mi aiuto a cercare mio fratello? Cos'è una fidanzata? Tanto non ci vengo a letto con te. Io ti garantisco che se tu guardi Madonna nel modo giusto quella viene a letto con te. Sebu! Come ero prima? Ero uno stronzo, ma veramente stronzo. Questa è per te. Mannaggia! Ognuno ha la sua anima gemella e magari lei è la sua. E mia moglie. Prima vi avevate insieme e poi vi siete separati. Ma come non l'amavo? Questo è il problema. È che io non sono mai stato niente per te. Mi ha completamente abbandonato. Non esistevo il nulla. L'amore è quel sentimento che non ti fa sentire il tempo che passa anche quando passa. E infatti sei da sola. Anche tu. L'hai fatto vincere apposta. Almeno sei felice, no? No. 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 Grazie a tutti